Ancora due dimissioni in Consiglio Comunale a quarto. Non accenna a placarsi quella che appare sempre di più come un'epidemia che sta letteralmente contagiando la maggioranza. Gli ultimi ad essere caduti vittima del caso quarto sono Raffaele Dalise e Stefania Ganino. Si fa difficile il futuro per il sindaco Capozzo che dal momento dell'espulsione dal movimento sta vedendo via via sgretolarsi la maggioranza. Si pone a questo punto il problema della surroga dei dimissionari. Non avendo più la lista Capozzo, al momento peraltro senza un nome e un simbolo, riserve da schierare in campo. Seppure gli ultimi due consiglieri in lista, preziosi e formato, dovessero accettare di sedere in seno al Consiglio, cosa che molti dubitano, resterebbero due seggi vacanti. Se invece le ultime due riserve dovessero decidere di non accettare il mandato, la Capozzo si ritroverebbe con 11 consiglieri e di fatto non avrebbe più una maggioranza in Consiglio. Un facile bersaglio per l'opposizione che a quanto pare però sceglie di non affossare la Capozzo, bensì di tenderle la mano. I consiglieri delle liste Uniti per Quarto, Insieme per Quarto e Forza Gabriele fanno sapere, infatti, che non hanno intenzione di dimettersi, almeno per il momento. Intanto il sindaco torna a parlare dalla sua pagina Facebook, che lo fa per attaccare il Movimento 5 Stelle. È inutile avere le mani pulite se poi le si tiene in tasca, scrive la Capozzo. Il Movimento 5 Stelle ha avuto l'occasione di combattere il malaffare in prima linea con un suo sindaco, che lo ha fatto, ma ha preferito scappare a gambe levate e smacchiarsi il vestito, buttando anche il bambino insieme all'acqua sporca. Non si governano così i comuni e i territori difficili, non si abbandonano così migliaia di persone che hanno creduto in noi e nel Movimento. È stata fatta una scelta politica in una stanza grigia di Milano e io ho fatto una scelta di principio per i cittadini onesti di Quarto. Così il primo cittadino alla vigilia del suo viaggio a Roma, dove sarà assentita dalla Commissione Antimafia. Scarica il Movimento dopo essere stata a sua volta scaricata l'ex grillina di Quarto, che non fa mistero della sua disillusione nei confronti dei vertici per come è stata condotta questa spinosa vicenda e fa luce anche sulle reali responsabilità del direttorio, ammettendo nel corso del colloquio in procura del 12 gennaio scorso di aver informato Fico dell'interrogatorio del 24 novembre e naturalmente del suo contenuto. Ma i grillini si difendono, niente di nuovo nelle dichiarazioni di Rosa Capozzo. Conferma che il Movimento 5 Stelle non sia mai stato portato a conoscenza della natura ricattatoria delle pressioni del consigliere De Robbio.